Il più cordiale e buon martedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di OnnoWebTV, le notizie in positivo. Oggi 29 settembre è festa dei tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele è il capo delle schiere celesti, Gabriele il messaggero e Raffaele la guida dei viandanti. Auguri a quanti festeggiano l'onomastico. Ed oggi 29 settembre è la giornata mondiale del cuore. È una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Health Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che insieme sostengono l'impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi. Il comune di Caserta aderisce alla giornata del dono, organizzando per domenica 4 ottobre Libri in Comune, un'iniziativa di scambio e dono di testi che si svolgerà presso i porticati di Palazzo Castropignano a partire dalle ore 10. Foto nel bosco sabato 3 ottobre alle 12 all'Oasi del Bosco di San Silvestro. Mostra di foto di Gabriele De Filippo, fotografo e biologo della conservazione Amico dell'Oasi, che ha saputo cogliere l'anima con uno sguardo attento ai particolari. In occasione dell'inaugurazione è collatore anche Alessandro Gatto, coordinatore regionale delle guardie giurate dell'UVF Italia per la regione Campania. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie positive su www.nawebtv.it